Ristorante e pizzeria, qua siete con delle buonissime pizze e l'appuntamento nel calendario delle serate gastronomiche, quando è? 18 di maggio, con una serata tipica, tutta a base di pietanze genovesi, ci sono fresce panissa, farinata, i corsetti al autucco, tutti i piatti tipici di Genova. Secondo appuntamento? Secondo appuntamento invece sarà il 28 di settembre con una serata tutta a base di funghi porcini, quindi insalata dei porcini come antipasto, un primo come dei risotti con chiodini, i ravioli con il sugo dei porcini oppure delle fettucine con porcini e salsiccio. E per chi vuole prenotare che numero deve fare? Allora il numero è 010 75 2098. Ricordiamo anche che all'interno della consulta siete i più vecchi, nel senso che sono quasi 18 anni che siete aperti. Sì esattamente, siamo aperti dal 1998.